Una nuova era nella villa comunale, potenziarla nei servizi e l'amministrazione tutta l'aggiunta chiama a raccolta dei progetti di valorizzazione integrata dei 5 immobili che caratterizzano la villa, nonché del giardino storico, immaginando funzioni integrate proprio tra gli edifici e il giardino. È stato pubblicato sull'albo pretorio del Comune di Lecce l'avviso pubblico per manifestazioni di interesse per la concessione della villa comunale Giuseppe Garibaldi. Si tratta di una procedura pre-selettiva che resterà aperta fino al prossimo 2 marzo per la raccolta di manifestazioni di interesse di soggetti singoli o raggruppati, finalizzata alla valorizzazione dell'intero complesso storico, nel quale potranno coesistere sia barca, fatteria, sia spazi a destinare ad attività ludico-ricreative, manifestazioni o eventi, sia attività di carattere turistico-culturale, con l'utilizzo degli spazi del rifugio antiaereo-sotterraneo. Immaginiamo delle proposte integrate tra funzioni sociali, quali la ludoteca, l'area gioco per i bambini, un luogo di aggregazione popolare della città, questo è un luogo simbolico che appartiene alla memoria collettiva storica della città, ma anche altri usi legati alla cultura, per esempio, oppure al turismo, dentro un'offerta integrata che metta a valore le risorse del territorio, non solo dei luoghi, questa è una risorsa della città, ma anche proprio le risorse umane della città, immaginando e augurandoci che questo produca anche delle economie virtuose con nuovi posti di lavoro.